L'ispirazione di questa collezione è una nuova Madame Butterfly, quindi l'unione che c'è tra il Giappone e l'Italia. Abbiamo incontrato grossi buyer giapponesi, coreani, libanesi. La nostra collezione è la cosa più vecchia, il lavoro con l'origami e tutto il ricamo a mano. Siamo un'azienda di quasi 60 anni di storia, io sono la terza generazione. Il nostro lavoro è un made in Italy e questo vorrei sottolinearlo con fermezza perché è un fiore all'occhiello del nostro mondo sposa. Sposa Italia è la manifestazione più importante, dove credo tutti i buyer più specializzati e importanti non possono far meno di venire a visitarla. Sposa Italia secondo me è la fiera dell'eleganza. Io ho la fortuna di presenziare e di girare molte fiere internazionali e trovo che questa sia in assoluto la più curata sia nell'estetica degli stand, sia proprio nell'eleganza del dettaglio. Ci sono stati arabi, americani e russi, anche giapponesi. Sposa Italia in tre parole, quality, variety e wearable art pieces, art. La prima cosa sarà Antonio Riva, che è assolutamente bellissima, architettivamente bellissima. Ha un sentimento più di wow, che credo che i bambini in gli Stati sono assolutamente amabili. La qualità più interessante vista in manifestazione per noi è stata la qualità delle aziende italiane. La prima cosa sarà il mondo, buon servizio, buon servizio, buon servizio, buon servizio. La prima cosa sarà il mondo, buon servizio, raffinato e organizzato. La prima cosa sarà il mondo, buon servizio, buon servizio, buon servizio. La prima cosa sarà il mondo, buon servizio, buon servizio, buon servizio. La prima cosa sarà il mondo, buon servizio, buon servizio, buon servizio.